Ragazzi, oggi vi porto questa MR9 che è assolutamente pay to win su Worldzone. Si tratta di questo progetto d'arma carezza velenosa, proprio dell'AMR9, che cambia completamente l'arma, come vi spiegherò a seguire. E così ragazzi, va davvero davvero bene. Come vedrete nel gameplay che vi lascerò a seguire, dove mi faccio ben 30 bombe su Rebirth Tile, ragazzi. Un partitone super frenetico e aggressivo con un sacco di kill, mi raccomando, non perdetevelo, così vedrete come va in partita quest'arma. Ma prima vi lascio la build con la migliore configurazione degli accessori che dovrete usare. E vi spiego anche la differenza tra l'AMR9 normale e questa qui del Battle Pass, e perché è pay to win. Allora ragazzi, prima di tutto vi faccio vedere l'AMR9 normale, così capirete le differenze. Allora, guardiamo. Questa è l'AMR9 normale. Guardate la mira che ha, che non fa vedere nulla. Adesso guardiamo la ricarica, importantissimo anche. Guardate come ricarica. Ricarica abbastanza lento. Però, perché è pay to win l'AMR9 del Battle Pass? Guardate ragazzi. Allora, selezioniamo l'AMR9 e mettiamo il progetto d'arma carezza velenosa del Battle Pass. Quindi ragazzi, adesso andiamo su Arma Iolo e la buildiamo. Andiamo su Arma Iolo. Prima di tutto togliamo il kit di conversione che ha questo progetto d'arma. Poi ci mettiamo lo spegni fiamma compensato Zen 35. Il caricatore dai 50 colpi. La mira la togliamo. Mettiamo il calcio carabina Wolfhound. L'impugnatura Shaking. E le munizioni. I colpi di grammatura elevata. E adesso ragazzi andiamo al campo di tiro e guardate la differenza rispetto all'AMR9 originale. Guardate ragazzi. Prima di tutto, guardate la mira. Guardate che differenza ragazzi. Ecco perché è pay to win. Guardate che mira che ha. Super super pulita. E poi guardate la ricarica ragazzi. Guardate come ricarica super super veloce rispetto all'AMR9 originale. È velocissimo. E poi grazie a questa mira che ha. Sembra anche che si muova meno. Per un effetto visuale. Quindi sarà molto molto più facile da utilizzare. Bene ragazzi. Adesso vi lascio con questo super partitore. Con ben 30 kill su Rebirth Thailand. Spero sia di vostro gradimento. Un bel like al video. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E iscrivetevi per restare sempre aggiornati su Worldzone. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. No. Non l'ho visto minimamente. Stai pensando. Una terra sopra. Una terra sopra. Quanti altri? Bene. Dove altri? Marco il resto della squadra sulla mappa tattica. Buona cassa. Aspetta un attimo. No. Sbaglio il tiro. Buona terra. Ma come fai sempre a trovare le tue armi? E' incredibile. Buona cosa no? Mi sta largando. Mi sta largando. Mi sta largando. E' questo qua. Non è stato. Ah no l'avevo visto qua. Dove sei? Di qua, di qua. Giù Sanno. Eh no, ragazzi. Mi ha portato una miga alla gamba. E' ta' fai. E' da qua. Va bene. Adesso uno qua su papà, noi. Fa fuori esterno. Sono tra i tessi. E' uno qua. 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 Oh, ti mani andato. Fatto uno. Sono top ancora? Sì, è stata. Confermato. Uno arrivo. No, non è ancora ancora. Aspetta un attimo. Sono anche fino sotto. No, ma porca troia. Ma baffanculo. No, non restare a quella. Cazzo se ne fre... Uccisione confermata. Sì, sì. Sì, sì. Ho un altro dietro di noi anche, eh. Arrivo sotto in te. Oh, sua coglione. Prendisci a quel che scopo in bocca. Pezzo di merda. Due sotto di noi, eh. Prego, ma... Ok. Si sta versando questo, eh. Allora. Allora. Un altro sul tetto ancora, sull'antenna. Un altro un po' a basso, qua. Stai su, qua, eh. Ma il cuore d'oggetto. Sono tutti sopra. Uno qua, non è, basso. Vai, guarda, 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 guarda. Pia, auto-reaction. Aspetta. Meglio che sia l'ultimo moto. Ok, guardami, devo curare, eh. Oh, ancora gente là sopra, con la pistola. Oh, no. Atterra, 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 guarda, guarda. To' due, ah? Che merda, tutto giusto di me, bastardi. L'altro da sta parte è giù. Aspetta, fammi scendere una. Fai guardando un'arma, un'arma e un'arma. Vado da un quick che scopa in testa. Sì, sulla nave. Tra il turno, terra uno. Tra l'altro, attra l'altro. Era in parte a te questo. Io sono sceso e non sono trovato in parte, eh. Sulla nave giù e la avevo fatta. No, però dico, quello lì era in parte a te. Cioè, sono sceso e non sono trovato addosso a quello. All'altro, vabbè. Nave, eh. Aspetta, dammi un attimo. Mannaggia, restati poi. Eh, lo so, ho capito, ma la sua armina è solo stringio, eh. A quello, vedo. Lì, eh. È che è una... Ho 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 una... Finiamo da corto, però non ce l'ho da long No, me la rubano Oh, mi lagga One shot, one shot, one shot, a terra Bravissimo, a terra, me la confermai quello A terra, marco i suoi compagni Prendo l'ho, addio No, timing That's so much Buono, mi ha allargato di brutto, non so Mi è rimasta una mega allargata Ok Aspetta, 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 sei da solo Dovevo fare qualsiasi è top Due team Sì, aspetta Sì, però Sono bassi Ok, sono qua con te Buono, mi lagga Ufficiale, mi lagga a fare schifo Ecco io, qua Qua, eh Eccolo È andato Fatto Fatto l'altro Grazie Mascherò Grazie Anzi, basta No Madonna Se io dico qualcuno, pingamelo Era uno, no? Crackat uno Crackat l'altro Io sono pronto a lanciarti la fumogena perché non ho il cecchino Non ho visto quello Crackat uno Figa, ma come cazzo fai a calcare così? Dio, due, tre conti tre Una a terra Un altro caccato Di tua voce A terra A terra 30 bombs